Il sindaco di Vittoria Moscati, in qualità di primo cittadino del comune capofila del costituendo Galvalli del Golfo, ha organizzato per domani, martedì 28 febbraio, ore 9.30, alla sala Pietro Palazza Comiso, un incontro pubblico sul piano di azione locale. All'incontro sono stati invitate anche i sindaci di Gela, Comisi e Cat, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le associazioni che a vario titolo sono interessate all'iniziativa. Oggetto dell'incontro, la rilevazione dei punti di forza e debolezza del territorio per la definizione dei fabbisogni prioritari di intervento nel piano in questione. Non solo, ma anche la condivisione degli ambiti tematici di intervento nella strategia, oltre alla programmazione e pianificazione dei metodi da applicare. A seguire si svolgerà un workshop su agroindustria, energia e ambiente, elementi fondamentali per il rilancio del territorio. L'invito per domani a Comisi è stato inoltre pubblicato all'albopretore online del sito istituzionale del Comune di Vittoria, oltre che sul sito Sportelle Europa. Grazie. 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 Grazie.